L'Inora Village artisti di livello nazionale e internazionale, dal disc jockey di fama mondiale Bob Sinclair al rapper statunitense Snoop Dogg, dalla musica italiana di Genuca Grignani alla canzone napoletana di Sal Da Vinci e poi ancora spazio alla comicità, alla moda e al cibo con una serie di appuntamenti che andranno ad arricchire l'offerta turistica. L'Inora Village sarà un luogo da vivere ogni giorno H24, oltre alle date degli eventi musicali grazie alla presenza di un'ampia aria verde con la presenza dei sei chioschi destinati alla somministrazione di cibo e di bevande e di uno spazio di intrattenimento anche per bambini. L'area sarà dotata inoltre di un presidio infermieristico H24. Si potrà accedere gratuitamente all'Inora Village tutti i giorni, mentre gli spettacoli in calendario saranno alcuni a pagamento e altri con ingresso libero. L'area dedicata agli eventi artistici avrà una capienza che potrà variare dai 2.500 posti con le sedute a 6.000 posti senza seduta. A ridosso del nuovo villaggio ci saranno inoltre i parcheggi comunali con una capienza di circa 2.500 posti auto. Quest'anno è la prima volta che candidiamo l'evento al marchio europeo della cultura 2018 dell'Europa, quindi un qualcosa di unico. L'impostazione che abbiamo dato è un'impostazione direi unica, perché è stata sottratta un'area al degrado, abbiamo sottratta un'area all'abuso edilizio per un rilancio vero, ma non un rilancio a livello locale, un rilancio a livello europeo internazionale perché gli artisti sono di questa levatura. Ovviamente tutto questo è stato fatto in sinergia con il parco archeologico, dove noi faremo altre manifestazioni di straordinaria importanza, di concerto con il direttore Zucchetti-Riegel e insieme, in modo lungimirante, dopo gli eventi di Torino, perché nessuno deve dimenticare cosa è successo a Torino per ragioni di sicurezza, noi abbiamo creato questa location di grande importanza che consentirà non soltanto avere tutti i margini di sicurezza, ma consentirà agli artisti di scegliere come hanno già scelto proprio in virtù di quello che rappresenta l'area. Il calendario dove ci sono nomi illustri, un calendario molto trasversale dove abbiamo previsto eventi di ogni tipo, dal teatro al jazz ad eventi per i più giovani, con l'idea di coinvolgere tutti e di far nascere quel senso di appartenenza al territorio, perché quando si parla del territorio di Capaccio Pestum, quando si parla del turismo a Capaccio Pestum, bisogna anche allontanarci un attimo dal parco archeologico che è un attrattore che viaggia da solo, ma bisogna sviluppare nuovi attrattori affinché nei vari periodi dell'anno si possano innescare nuovi flussi turistici. Questo progetto che avrà il nome di Lean Ora, dove ora sta ad indicare il cambiamento, la voglia di cambiare, di creare cose nuove, è concepito in maniera molto originale e completa, in quanto è previsto un'area food, un'area parcheggi, un'area spettacolo e il progetto è destinata a crescere in quanto per il nuovo anno stiamo addirittura prevedendo una palestra open che sarà direttamente collocata sulla spiaggia. Siamo a due chilometri dall'uscita nord di Agropoli, siamo a un chilometro dall'uscita di Spinazzo, quella che noi conosciamo sulla statale, e siamo a un chilometro e mezzo dai tempi, quindi c'è una viabilità diffusa, aperta, in modo tale che possiamo essere raggiunti da qualsiasi parte, sia dal sud che dal nord, senza problemi di traffico e senza ingolfare quella che prima era l'arteria principale che portava al parco archeologico.